Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Dopo Sanremo Marco Mengoni fa un annuncio che spiazza i suoi fan Gioia infinita per il cantante. Marco Mengoni sta sicuramente vivendo uno dei periodi più belli della sua vita La sua vittoria nell'ultima edizione di Sanremo ha messo d'accordo davvero tutti, rimasti colpiti dalla sua bellissima canzone due vite e dalle sue performance impeccabili durante tutte le serate al Teatro Ariston Il pubblico è rimasto letteralmente incantato dalla sua bravura e da un'estensione vocale che non ha eguali Il suo brano si è confermato anche un grande successo in termini di ascolti e passaggi in radio diventando una vera e propria hit Ora tutti attendono impazienti la sua prossima esibizione in Mondovisione quando sul palco dell'Eurovision rappresenterà l'Italia e proverà a far vincere la competizione canora più importante d'Europa per la seconda volta dopo pochi anni Intanto, il cantante ha confermato la sua presenza mandando invisibilio i suoi tantissimi fan nel nostro paese ma anche nel mondo Tutti i giornali lo cercano, intenti a capire qualcosa in più di questo enigmatico artista sempre molto riservato rispetto alla sua vita privata C'è chi parla di una relazione passata con Mahmood, confermata, forse, da un incontro a dir poco imbarazzante tra i due dietro le quinte del festival di Sanremo che dimostrerebbe un rapporto ormai incrinato da tempo Marco Mengoni e l'annuncio inaspettato Reduce dall'incredibile exploit mediatico dovuto dalla bella vittoria a Sanremo, Marco Mengoni ha fatto un bellissimo regalo ai suoi tanti fan che lo seguono da tempo in memore, da quando era un semplice concorrente di X Factor Mengoni è cresciuto molto rispetto dagli inizi della sua carriera quando la musica era una semplice passione grazie alle sue influenze artistiche come Sam Cooke, Al Green e George Michael Da semplice cantante amatoriale ora Mengoni è un professionista tanto che proprio negli ultimi giorni ha fatto un annuncio incredibile Il cantante romano farà un tour negli stadi previsto per l'estate 2023 per festeggiare Sanremo ed il suo nuovo album Il 15 luglio 2023 Marco Mengoni si esibirà in un mega concerto al Circo Massimo di Roma, una data irripetibile per l'uomo pronto a celebrare tutti i suoi successi degli ultimi anni Inoltre, le tappe di Bari, Bologna e Milano e Salerno sono ormai sold out da un po' di tempo a conferma dei tantissimi fan che seguono Mengoni in giro per l'Italia Il concerto al Circo Massimo, però, è l'evento più atteso dagli amanti della musica che potranno ascoltare dal vivo album come Materia, Terra, e Materia, Pelle, ed il terzo che uscirà nel 2023 Prima di luglio, però, per lui una tappa fondamentale, l'Eurovision di Liverpool a maggio Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me Arrivederci, al prossimo video Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere